Allora mi ricordo su tutto Quasi su tutto, tranne che sulla gastronomia perché lui continua Vi ricordo che la pizza napoletana l'ha fatta Luca Zaia STG a livello comunitario Vabbè, veditela via Vi devo dire, vi devo dire che Vabbè, quando siamo andati al festival di Venezia Non siamo riusciti a trovare un po' di fegato a Veneziana Tanto per dire che No, sono andato nei posti sbagliati Ma quando mai, vabbè Ma dice che d'estate non... Ma hai andato alla bella Napoli a mangiare il fegato a Veneziana Ma quando mai, dice che d'estate noi non fanno il fegato a Veneziana No, noi lo facciamo Da Cipriani c'è sempre la risbara Sono da Cipriani, la risbara, quanto costa la risbara La tazza di caffè sono 20 euro Non ho capito, ma sei a Venezia e sei nella... C'è un'icona della ristorazione Adesso non esagerò meglio Cerchi la rissa allora, cerchi la rissa A Venezia, parli con la campagna Mi devo dire che non ho fatto il confronto con il Veneto Quello con la Lombardia è stato disastroso per la Lombardia Perché ci aveva offerto Fontana Una cosa... Non ve lo dico nemmeno Quando poi la delegazione Lombarda è venuta a Napoli Beh, veramente abbiamo dato una prova Non li invita mai a Napoli No, 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 li abbiamo invitati a un sacco di tempo Grazie a tutti Grazie a tutti